Le rate dei nuovi mutui a tasso fisso sono destinate a raddoppiare nel corso del 2023, mentre quelle dei mutui a tasso variabile dovrebbero salire del 55-65%. Per un mutuo a tasso fisso da 200.000 euro di 25 anni, la rata mensile sarà di 1.304 euro. Sono i calcoli della Fave e la luce del nuovo rialzo della BCE.